bene 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 noi salutiamo subito così almeno ci arriviamo al pensiero hola a tutti come ti va? tutto bene tutto bene? grazie ciao ci vediamo dopo ok ok facciamo il test audio per favore il nostro bel test audio audio no 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 cosa sto facendo? cosa sto facendo? pazza 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 cosa sei entrato? ma te te l'ha dato la pelle ah no ci è spento e l'avvisamento voilà la 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 Il rumore è mostruoso. No, adesso il problema era... L'è quel momento. Si. Juan Esteban, un breve holà. Hola, che tal? Tutto bene? Siamo qui, oggi riuniti, per ricordare un amico, per ricordare un tesoro. Averlo che è il nostro Kaoi, con questa nuova arma che è una che la vi ha provata. E vai su Discord. Un secondo. Si. E schiacci... Il punto esclamativo... Quella nuova grafica. Si è rotta la capturadora. Si. Si. E questo? Si. 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 la punto esclamativo online con la o maiuscola tutto attaccato non ho fatto niente però no on air no questo può cancellareci e poi ho messo una on air per quanto è stato tutto attaccato che è passata la capturatora si non mi gusta l'arma nuova no hello meme no hello meme e lì con Giulio ciao svegli bello sapere che se con Giulio ma chi è Giulio? non è la sua sorella? non so eh penso che è Giulio si chiamava come stai comunque? non lo so diretta no no non è la sua sorella no me la riconosce la PC e la tele oh eh non lo so tengo se chiedere miro algo e vediamo se questa sia algo oh Ratti bella che la caricata ciao come stai come stai come stai siamo bene è un giorno di regalo in spain ma siamo bene come stai ti stai no non mi piace proprio l'arma nuova no 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 non mi piace proprio l'arma nuova no 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 è la mia migliore amica in maiuscole ok scusa scusa svegli ciao Giulio oh svevi se mi devi regalare qualcosa per il mio compleanno visto che lo sai regalami un paio di scarpe più esatto due indicazioni che non puoi sapere no? però cazzo è la mia età e il mio numero di scarpe eh che grida no per il mio compleanno regalami un paio di scarpe e svevi si dirà quando è il suo compleanno e io gli dico eh ma minchia è il mio compleanno è chiaro no e che numero di scarpe porta eh ma dai allora fammi leggere hola siamo bene diciamo il mio compleanno è il 3 di febbraio come si chiama la mia migliore amica? Giulia Giulia è brava ma Giulia per Giulia? o per Giuliana per cosa sta Giulia? che adesso gli do una lezione di vita a questi ragazzi guarda ok allora guarda eh quando allora quando quando parli della tua amica visto che la tua migliore amica se vuoi dargli dignità no? così è brutto dirsi ma dovresti scriverla così ricordatelo lo sapevi tu sta legge? sta legge grammatica che se vuoi eh non deve ingrizzare nonno no no si scrivi già alla italiana no ti spiego il perchè allora Giulia si scriverebbe così se no la chiami Giù no? non puoi scrivere Giulia con la Y no? però per dirti Francesca la puoi chiamare Franci no? in italiano si Francesca la puoi chiamare Franci Franci si potrebbe scrivere con la Y perchè? perchè l'abbreviazione del nome non contiene quella I hai capito? perciò tutto quello che viene dopo l'abbreviazione del nome è una Y visto se invece il nome contiene la I e tu vuoi scrivermi Giulia dovresti scrivermi quella I normale perchè il suo nome abbreviato già contiene quella I quindi non è dispensabile cioè non potresti toglierla e per quello anche il mio nome si può abbreviare con la Y no il tuo nome si abbrevia o Jess come dici tu o Jessi come scriviamo noi normalmente senza la Y ma perchè se non ha la I eh ti chiami Jessica come non hai la I se stiamo abbreviando se stiamo già abbreviando con la I la tua I la stiamo abbreviando Jessi non puoi sostituirla per l'abbreviazione bravissima devi usare quella I ho capito ho capito l'abbreviazione sarebbe ehm 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 tua sorella per esempio no neanche ehm 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 come no stai cercando un esempio come Francesca Francesca si non so per farti capire ehm Stefania Stefania e Steffi ma Steffi sarebbe con la Y perchè stiamo abbreviando la A non stiamo abbreviando la Y la I intendo ah Luke sorry 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 oh hi no no lo so lo so che se a te piace più quella Y io la mia mia una delle cioè la una delle mie miglior amiche si chiama Giulia ehm io la chiamo Giules per farti capire con la con la Y cioè con la cota di yogurt e però se non la chiamo Giù però Giuli ehm l'ho sempre chiamata è una legge questa qua ricordatela è una legge grammaticale ma ha senso chiaro che ha senso una volta l'hai capito e l'hai analizzata ma anche io sempre mi scriveva quello Y in qualche tempo si tu ti chiami Eddi va bene perchè stai abbreviando Edoardo che non contiene la I perciò Ed Eddi perfetto giusto e anche per esempio nel caso di Gabriele si in realtà quando direi Gabi ma si potrebbe fare con la Y perchè abrivi la R poi alla fine non dici Gabri Gabi in Italia Gabriele ah con la I ehm non c'è la I Gabi no se fai Gabi e con la Y puoi fare con la Y no non puoi fare con la Y ma se fai Gabi ma si abrivi la R no abrivi la I quello che viene dopo la I stai abbreviando cioè non stai abbreviando la R vale vale ui Kelin è anche arrivato hola Kelin hola Kelin che tali sorry ragazzi stiamo parlando l'Italian grammatical thing è bravo a disegnare è bravo a disegnare Travacando? perchè travacando? che ti passa? che ti passa? madcap ratti doc e andiamo allora ora compramo sui per la Switch quindi hai un buon obiettivo vieni a comprare i giocatori che valen poco così devi lavorare meno io lavoro solo per i giocatori 10 euro no no noi vogliamo comprare e credo che questa noc o mas tardi lo vamos a comprare Worms Noi bene, che lì, grazie Grazie, sempre qui Ora facendo cose diverse che se poi vieni a giocare con noi ti faremo un video di tuo partito ti faremo una nuova playlist quindi stiamo lavorando abbiamo borrato tutto il video con copyright per questo abbiamo poche visualizzazioni abbiamo perduto più che il 70% della visualizzazione però ora abbiamo il canale è regla, perfetta regla è ottimista dopo un mese e medio quindi no, no, no glug, 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 glug glug, glug, glug guarda, stai ascoltando a noi? guarda quando finis il match si, possiamo fare il video con lui si oh, Kaylee 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 ma non c'è, ah no Johanna hola Johanna mira Kaylee, ahi sta grande che tal chicas che che ora le grano tutti tutti il mondo il mondo il mondo il mondo se rieun come stai tutti buo Johanita Johanna Johanna le sta cambiando la canzone è bella questa questa è Susanna è la evoluzione di vostre canzioni no, no la sua Johanna siamo a perdere questo partito io come sempre ho necessito di tempo perché sono come un motore diesel quindi ho necessito di un pochino di tempo 2 madre che asco di partito 2 hola Kalev no hola a tutti Kalev no tiene che 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 a chi sta dicendo hola in primo in primo lugar e e poi nintendo non spia però a me si ha potuto entrare Kalev no ho finito la voce è è molto 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 mi ha come un trozzo di vidrio che il canale della sola poniamo solo dove la gente viene si saluta e va ciao gabriele no poverina miona miona vuole un'amica sulla switch non la incontra criste e e e questa che ha sido ser ser jubi Ciao! 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 Bene, bene, la mia vita! Tu hai comito oggi? Perfetto! E' Luca? Non so se sia qui ancora... Io non, io continuo qui... Ecco, io ho! Io ho un angelo che mi protegge da ero invidioso! Che tal? E non muere questo hijo del frutta! Fai schifo! Merda! Merda! Stavo chiedendo! Ah, no, non ancora! Ancora? Cosa abbiamo fatto? No, no, no! E' la grande domanda! E' nessuno deve sapere quello che eserlo! Devi morire! Merda! Merda! Ti faccio morire! I gotti bong! Nosotros bien! Hola Jorge Esteban! Deberia fare un torneo de Splatoon! Non è... Spera che ora siamo in una riunione e te lo vanno a dire. Chicos, tutti nel Discord. Teniamo che parlare di una cosa importante. Come si chiamavano quelle parole che avevamo detto? Cucumber? Cucumber? In italiano? Cetrioli. Cetrioli. Cetrioli, mamma! Sì, lo stavamo dicendo. Carebbe? Mira che sei tanto il guapo, io voglio chiamare un amico di favorito. Ratti. Ratti non c'è più. E sarà un misterio, Jaime? Sì, sì, sarà un misterio, il misterio della Sacra Fede. Sì, fino alla ultima ora. Sì, fino alla ultima gota. A ver, a ver. Johanna... I must do feel you, Johanna... Mai le... Vente, Jorge, non si paga ancora. Aún è gratis il servizio, vente. E quindi, ragazzi, forse vediamo cosa succede. Che cosa succede? Sì, pepiniglio. Si impara piglia. Mamma mia! Che visione disumana! Un gremlin. Un gremio che sono belle, eh? Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Si, è un misterio di, ciao. Eh... Che cosa? Johanna... Che cosa dice? No se, igual le tengo que poner acento andaluz, para que parezca más... ...el Sevilla, no? Le tengo que poner acento más así. Colinterpreti. Cual è tu higolista di preferんio, ma share? L'ho detto bene, Johanna! L'ho detto bene? tu calcoli sempre che è alemane, non è spagnola quindi sta facendo un accento che non è il suo perché non facciamo una partita privata senza codice? che ha posto codice? numero uno, che ha posto codice? e numero due, perché è privata? se ora ancora non leghiamo ai socioli ora dobbiamo comandare nel mondo, dobbiamo andare giocando contro persone così già avete formato il suo clan? chi? noi? chi è il che parla? Kelin? ma Kelin sapevo che sta parlando con i Igodi noi siamo i Igodi è il mitico clan Igodi Calamaco 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 oh Calamaco fammi il favore vatti a vedere per favore sul canale il replay della partita di Sweet Rush va? se hai voglia dura solo tre minuti si puoi leggere il nome di Tibona anche tante volte eh? ahahahah eh? che lindo un pochino cosa? dice alla alla io sei la che ando perdita e io questo non capisco si si te fija se la playlist tienes videos de los miembros e tutto che lindo dice che è lei che non sia fissata che non sia firmato leggere niente no capito noi siamo è al meglio gran noi abbiamo gente del calibro di Calamaco ecco la coppia di sposini dice Sveli Svelina ora è arrivata la notifica un pochettino indietro giusto Svelina piccola piazza un piccola piazza oh 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 in un ultimo match buono colin costito le p***a madre hai quello che diceva del bombosato? eccomi chi è? Ratti Ratti tranquillo non sentivamo la tua mancanza momentaneamente ancora continuino no? infatti non so perchè chiedo perchè ho già cliccato a cliccato cliccato tranquilla Ratti fai tutto con calma che noi siamo qua Ratti una lipidibida oddio la facciamo con Ratti la canzone Ratti Doka decido di non utilizzare più le Ghir no basta è possibile Kaylee perchè? se non sta jugando cosa c'è? per non è spormale solo significa che è molto persistente perchè? perchè dice Kaleb stai studiando e si sa che Kaleb è ambizioso Igo di ambizio lo chiamiamo no? e lui risponde che triste non è triste hai una forza e volontà grande almeno mannana quando abbiamo la quinta della tornea cosa si hai qualcuno che sape scrivere si a parte di mi perdonate ma tu tu sape leer no io so scrivere anche? anche scrivere? si la tecnologia ha fatto un passo da gigante mi dice che hai il mono Yalon è inviato nel nella luna è terminato il colore dice Kalebako non so perchè ma non mi fa collegare alla tua partita chi? Kalebako Kalebako perchè sono troppo pro partita privata ragazzi ma volete stare calmi? mi fate fare due partite ho pagato il gioco sapete si? l'ho comprato non me l'ha regalato non l'intendo ho detto perchè sei figo minchia ti diamo un gioco gratis cioè fatemi di sfruttare a volte sei uscita la nuova arma l'ho provata oggi io finalmente e guardate che non è che stiamo accendiamo la la switch giochiamo ti abbiamo e sei esatto chiquino da arrivo ma come stai che è che è che? che è che? che è che. adesso bene che è che ci il campagallo te saluta dice che è che è che è che è che l'olico che è che è che è che Eh, Ioana Eh, Sciro A cosa, Rati, entrare la partita o a cosa? Arriva la grande e ci rimuovi, eh? Sì, a breve Comunque, che squadra sei per lo spazio Madonna, madonna mia, madonna Madonna mia, che partita ragazzi Sì Eh, lo miro miro Si, si, vamos We got to do We got in a private match Don't worry Be happy Con codigo, con codigo Pong con codigo Pong con codigo Pong con codigo Pong con codigo Hi, Toast C'è la Toast come il marmo Hi, Toast È un ritmo tropical How are you, Toast? Che figo che sono In the theme of a book Lo deberíamos poner Book Fantasy book In the title And you? Hi, Mitchell Hi, Edgar Oh, Edgar Super, Edgar Right now She's speaking In deutsch And she's happy Oh, Edgar Endlich Oh, Edgar Oh, Edgar Sembra una donna The kids Oh, man Che frio hace, tío Tengo las puntas de los dedos Sin tacto Eh, io tengo, è también sin tacto Sin tacto Sigarette, son estas, ¿habiamo? Si, debo sigla Si, debo sigla Con poliesti Ah, ma questo qui vuol dire Che è Toast È un segno di Sì, sì Ok, Toast Aquí no, no puede nevar Queili, bueno Puede nevar cada 10 años Una vez Perfetto Hola, Binia Binia We do two match On free match And we change the room Ma cosa stai aspettando, Ratti? Era la seconda volta che lo dici Eh, non lo so La gente c'è Ratti, qualcosa, scusa Troppo tempo Es che non capisco Facciamo una partita corretta o scorretta? Scorretta Jace, poi vedi Sto aspettando Anzi, Jace, sarebbe che tu accedi Che se tu accedi la switch E te ne qualcuno C'è non c'è stata troppa gente Inizia ad accendere la switch Ok, fai Eh, ok Quindi facciamo così Allora, Doc Lasciamo fuori Madcap In the first match Aisley Madcap E vai E l'arma che tengo È al livello 523 Se mi pare Medio Iona Algo si Ti gusta, eh? Eh, Gabriele Troppe domande Stai facendo adesso Questo ti costerà 3 euro di donazione Di cui 2 euro Vanno arratti Per il cavo USB Se vuoi Ioana 262,5 euro Mascol for life Mascol, Mascol Mascol, Mascol Mongol, gol Mongol, gol Mongol, gol Mongol, gol Cosa non comprende Cosa non comprende Oh, oh, oh Eh? Mascol, Mascol Mascol Donate Care bomba Marina is life Marina is life Marmia You have strange things Ma 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 Li dovevi qualcosa Ratti Eh? Li devi Di qualcosa Ratti Sto ospitale Si vede che è entrato Non lo so Io Ratti dovrebbe fare Perché mi ha detto Poi vedi La reaction Ah Fa sto freddo Veramente Lo fa? Non me lo immagino Sì Ratti Dovresti fare La reaction Tu Reaction Eh Fai finta di niente Tu fai napoletano Però Sta aspettando La notifica Che notifica Ratti Mannaggia A Denise A Denise Aspett' Buon Perché stai fermo Lì Cocco Basta Cocco Basta Cocco Minchia Cocco È sostenibile Oggi È rutta Pura Tengo il loro Che se le dico Al cocco Che non le gusta E se tira E se tira il butto È rutta In questa partita Ma io non sono riuscito a fare un cazzo 80 E se tira il tuo concerto E se mi molesta il mio switch No no? E tu dì in inglese Che quelli che Quelli che stanno aspettando Se vogliono venire nel frattempo Nella stanza tua No 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 Chicos La bola Ma può essere che ha fatto una qualcosa O non so eh No lo so già Anche perché se Non so Aspetta Latti Aspetta un secondo Non parlare Stai zitto Minchia Aspetta Aspetta Ascrivi Aspetta Tranquilo Gabi Io vorrei fare una Una room parallela Asicc Quien non consiga Entrar La prossima Se poi avrà una ira la mia Perché se cerco di entrare In questa stanza Non soluzioniamo niente Rubo solo un altro spazio Non so sparare con quest'arma Scusami Spara troppo alta Minchia Oh mio Dio La chiave è 5-5-5-5-5-5 Perdonate Che stai controlando Una cosa Si stai controlando Me sinto fatal 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 La voy a hacer con un codigo Creo que no No la do con un codigo No 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 Tu no Privata normale Espera un momento Que tu hayas acabato No No Vine por la recomendación De mi amigo Kaleb Ah Hola Seras Denise O eres Jaime Si Eres Denise ¿Verdad? Si ¿Qué tal? Jaime Igual es Jaime Y le estamos hablando Como a Denise Ascolto Tu puoi fare una cosa Allora Allora Chi viene da te One second Please Un attimo Sto controlando la chat So We start a new room With The 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 So Si Può Fare Chi Viene da te Chi Viene da te Perché Io qua ne ho due In più Si Do Si Querenza Di Rijugare Invece De Sere Espectadores Pueden Ma Tipo Ma Veramente Oh Dio Adesso Meti En Pánico Posa Es Tipo Un DJ O Ma Da Jazz Allora Si Ah Vale Kale Perdona Oye Jaime Perdona Entonces Hola Jaime Vale Genial Jolín Pero Kalev Avisa Porque Justo Dos Líneas Arriba Avisa De Denise Y Ahora Vai Entra Jaime Un 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 Atimo Ragazzi Adesso Partiamo Ale Jaime Es Projugador Con Dinamo Rodillo Luego Se lo Digo Yana Está A Punto De Subir Nivel Mamma Mianchi Odio Clan Blitz No Mi Son Persa Nient Altro Lui Ha Ricebuto Una Richiesta Si Un Attimo Ragazzi Ah Vale Jaime Genial Ya Estás Aceptado Se lo Decía Yana El Que le Decías Adiós Pero Por qué Dices Adiós Yana Te Vas O Te Vas A Subir De Nivel Eh Bo Eu Cito Cual 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 Altro De La De La De La Partita De So Un Attimo Espeteamo Un Altro Solo Porque Un Vale Ya Me Está Despiendo De Kaylee Estoy Bien Casi Que Así Nos Da Miedo Muy Bien Ya Hemos Aceptado A Jaime Vale Que No Es Jaime Es Jaime Deniz Habla Inglés Y Nada Reaction En Mi Partida Está Kuma Y Bone Y ¿Nadie Más? Si Ratti Sente Facciamo Reaction ¿Alguien más quiere entrar conmigo? Así somos al menos Cuatro Igual no tenía que hacer Pris Bueno Si Ahora tenéis dos Jaime Si Pero bueno No pasa nada Se puede diferenciar Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Al menos Por que no te No te Siete Fai Me Partiamo Vai Partiamo Anche Noi Strano No Come Faccio ¿Qué e poi facciamo cambi hai capito? Kelly e Duca vengono in un partito contigo e vengono indossi del tuo o del mio e tant'ora verrà una persona massima ma io parto, mi aspetto anche se siamo cinque già, mi metto meno di no, io, anche se si vuole Eli ho operato due luoghi, due luoghi, due luoghi il mio luoghi ha ancora 4 posti, 5 posti 4 Klau Hi Klau Entra in me room, stas jugando, che tal? Si, grazie Kaleb Vi è arrivato ora, perchè stavo parlando al telefono con un amico quindi ho perduto un po' un pochino Grazie, se vuoi già ti ho detto Kaleb hai tibon e vamanos inizio? parto anch'io a Sve dovrei vedere peccato che non si può mettere un finestrino piccolo con un mini stream va a giocare? no, dopo me lo devi dire prima ok, dopo va a giocare te lo prometto si continui con noi con chi giochiamo io sto con Bone e Kuma e poi c'è Eli, Lori con qualcuno che è già smoke non mi ricordo che sia sì Flan, per favore aspettate aspettate un secondo io ti avrò in un minuto no di qua vezzucarvo e il Jasmo prende un picco sì e tutto mi piace mi piace c'è lo si va 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 Sniper, sniper Tolto, tolto Sniper, animo, lo puedes ganar todavía Sabes, no me va bien este grip Al menos no para hacer la bomba Para apretar, para mover, si no me va bien Te poni un poquito más pequeño He esperado a Eli, no me lo puedo creer Ahí hay un error de juego, creo O son los duales No, vieni, vieni, duca Vieni con me, vieni Wow, he vuelto a esperar a Eli Saludos Hello everybody, how are you doing? Saluto in the chat, we will read when we finish Playing, because right now Both of us are playing Ho freddo, ma le orecchie le ho calde Ho caldo, ma le orecchie le ho fredde No, Oliver, so Wow, wow, wow No, that's not possible Stop yo no parodia porqué che passa allora No, ragazzi, 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 per favore, non passiamo con nada, ratti, tranquillo. E noi viviamo di dislike. Quindi, Jaime, cominciamo ora già con il tuo video di presentazione. Dimmi che modalità vuoi jugare? Ah, più di 270? Ah, sì. Più di 270? Quando abbiamo saluto? Quando è passato? RELACTION! Che guai! Grazie per informarti, Kayleigh. Ehi, abbiamo vinto! Assalta almeja, perfetto, ora te la prendo un secondo. Foto più like di tutto il tipo, come possibile? Plant mom. Hello, plant. Benvenuti. Sì, sì, parliamo inglese anche. Parliamo inglese, spagnolo, tedesco, italiano. E ora si va a toccare, pronti. Alfa. Hai visto che è veloce? Ti bovo. Benvenuti. Allora, tu Eli? Io, Eli? Che significa? Guys? Che dicevi l'equipo? Mamma mia, non dirmi che adesso volevi l'equipo questo, eh? Almeja. Siamo destinati a che non faccia quello che mi chiede. Allora, già, adesso devi farmi il favore. Sì. Eh, devo riprendere... Una persona. Loli, scusami. Loli, 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 Ajli. No, Loli e io. Ciao, Loli. Loli, Loli, l'acqua di un saluto. Eh, abbiamo iniziato la sala in un match. Quindi, non preoccupate, facciamo una nuova sala in un minuto. E per questo match, non posso leggere il chat, perché sto registrando il match di un amico qui. E, per favore, deixate questo ruido, perché mi va a enfadar come una cabra. Basta, Loli, grazie. Vieni. Chico, parà, 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 parà. Gabi, perfetto. E ora si è iniziato. Allora, vamos a ver lo che passa. Che passato? Mi ha aspettato. Ah, mi ha aspettato. Grazie. Non avevi finito la cosa. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok. Vamos a ver... Vamos a ver... Un amico. Jaime. Jaime, ti stavo mirando. E il Chico utilizza un rullo. Attualmente, di color azul. Certo. La modalità di Ascolti al Mecca. Vamos a ver la potenzialità di nostri amici. Di nostro amico, perdone. Come sempre... Anche se non parece, sono italiano. Quindi, ho parlato molto bene il castellano, il spagnolo, molto portato per l'inglese. E anche... In questa modalità io non so come... Come... Come potenzialare a la persona. Perché è una modalità molto... È strana, no? Perché può essere... O singola o individual. quindi è sempre una modalità in cui le mie reaccioni hanno un effetto però a volte non la tenono, quindi me la gusto solo mirando il partito dell'amico di Nando Mas è il nocchiere che il dio si muove da io e se no, io no è matamaco, attenzione, è matamaco stella ascendente dell'Igo di Clan a match point bella guarda con te almeja, è la festa della del almeja non credo che te dejan passare per lì, bella maco, seconda volta, cuidado un onheimer evoluzionario, è no, è no, è no Kaylie con molte, molte grazie, non mati Jaime ottrontento l'equipo del Jaime non sta ganando a sta ora perché questo altro equipo ha un posto già 58 almejas all'interiore del, come si dice il cesto? della sesta è il maco revenge, il maco revenge una della meccorrivo di è il maco revenge 21, eh, 12, 13, 14 18 eh, eh, sì, eh sì partito terminato perché hanno fatto un assalto molto, molto, molto gordo negli ultimi secondi bene, bene partito, alla fine, sì, bene partito, non si bene, 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 bene New room, new room guy Non puoi caricare mentre giochi, latti One, two, three, four All welcome Sweet, my sweet Eccola qui There are with us the little sweet Sweet, hi Sì Questo Zona Splat Allora E mettiamo Binia Adios Gabi Ciao mi bien E Ashley Tanto mi veloz E dopo facciamo giocare Jaime Jaime Vuoi ponerti video ora Mismo In diretto E sul canale Jaime Oh no no chicos chicos Pero decais con esta tonteria por favor Porque me parece sempre demasiado Oye En serio Loli Loli si si che veras che conmigo non va a cucar Porfa Porfa Mom Shalab please Mako Mako Bravo Grazie Ashley Ashley Porfa perfetto me ha parecido desaparecido uno o sea había uno y de repente ya no estaba no sabes? entiendes lo que te quiero decir? si te metes un casco solo en un orecchio es que tengo que ir a la habitación porque los tengo ahí va bien, pues, apenas se bloque a ver Svithrush quise se ha parlato hola ¿quién eres? EgoD Sport bien conocerte no sin parar hasta que conseguimos vale, Kareb te digo que lo vamos a hacer lo vamos a hacer un día de este lo vamos a hacer te lo prometo es mi palabra, tiene mi palabra no 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 a no as un secundai mi as a ha un amico con... no, con l'account... un secondo, vedi cosa c'è scritto? mio vecchio ha un amico con il clan Igodi, mio vecchio... non lo capisco ha detto che c'era un amico, ma prima aveva un amico che... già si chiama Igodi ok, cool del cielo invisible... hombre, aveva una foto che... aveva esas cose per disparare, no? e un secondo il racconto il racconto è che è proprio il suo video come sono i caschi della... così, tipo... non devi vedere lo mio schifo che faccio? giocate lo sigo in tutte le parti già vedi, Clau solo che la sua ora non si chiama più ora stanno qui si non lo entiendo teni che anche in stream ora che che è? si ci metti questa? ah, vale per favore che spero che non mi piace troppo che è un bel anche ah per favore per favore per favore per favore per favore per favore potete parlare con noi in inglese e rispondiamo in inglese rispondiamo alle persone che scrivono due cose che facendo sentido che vuoi allora quindi ragazzi un altro non quindi un altro e giocare con questo gol gol l'handicap è spiegale spiegale alla chica suite che c'è il bot nel server ah sta qui suite suite stai ascoltando a me ora? non è ancora ascoltando a me diciamo se ascoltando a me che senti in discord c'è una cosa che hai ho un robot è un robot di internet che ha commando che si exceguita dependendo di quello che succede nel server Discord quindi questo è un'automattica cosa, non è una persona è come un computer, siamo programmati Vistual friend Vistual friend Vistual friend Vamonos Visto Io sto guardando come juega Pong Joshua Que'è questo? Qu'è? Qu'è? Ah vale, il Discord Ok? Vamono 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 No, 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 vatti Kain Mira che il tuo video comunque sta online Non so se te la dico Fai attenzione Dos, dos, vamos E l'importante è che lo sai La cia tibon, Nayara Ha sido una creazione tibon Binia? No Ah si è chiaro te la dico Mira con che tono, serio, te la dico? No Plant mom? Who is plant mom? Harley? Harley Quinn? Tu sabes che è loading? No Vale L'ho visto un paio di volte Tutta la mia partita Lo ho visto con due pambantini Si I wanna know, please I wanna know who is Harley Quinn And the plant mom, please Anaya lo gusta la mia miniatura I hear Si Jaime No, io sono il phantom No? Quien? Si Io sono il phantom Non, io sono il phantom Io voglio sapere Harley Quinn Harley Quinn Harley Quinn Plant Please, can you write Something? Vale Can you do aiutare qui no l'h ma cosa è andato ma già da prima mi sa ma manco viene c'è un paio di volte per asia anche lui la connessione ma cosa non va? era fake? e che è fake? no va per barcelona? era fake, non so, io non sabia nulla di questa notizia, ma prima ho detto che qui è molto poco probabile che ne va e ademais non c'è tanto frio come per innovare, fa molto frio ma non c'è tanto sweet uno, due ok, aguanta, aguanta la torre, vengo a porti, aguanta la torre, grande Harley Quinn, che non lo contesta Klau non si stava sottosplatando Doc ma una live su Canoli no? eh? Doc ma una live su Canoli no? ce l'ho detto Ratti no, Canoli no, no, eh, volevo fare una live su, ehm, sparchiamo un pochino mezz'ora dopo però adesso abbiamo tipo venti e picco persone qui tutte insieme perciò non posso lasciare nè nè anche per finta ahahah abbiamo perso tutte le visual, eh? abbiamo cancellato tutte, eh Ratti perdito non c'è più niente nel copyright abbiamo perso come 18.000 visualizzazioni ah, non dice oggi è un altro giorno, abbiamo fatto, eh? live su Canoli, ma si, un altro giorno può essere si, si è bellino come gioco, cioè a me piace non è bellino, mi piace ehm uuuu wow wow wow, sweet uuuu 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 si, brava, brava, porta il dolce squid bone squid bone squid bone squid bone uuuu squid bone uuuu 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 che cazzo è? uuuu 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 suore schi 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 è ho ci In inglese Ciao a tutti Salute nel chat se stai ascoltando noi o se stai giocando con noi Ciao Nintendo! Com'è? Ciao Mario Altro gioco Ratti Hello Altro gioco Adesso ti dico Harley Quinn Tu non parli, tu non spieghi E' semplice no? E' semplice E' semplice E' semplice Se pique E' semplice E' semplice che si è chiaro se riesco in qualche c'è un pochino dell'ulse e l'acqua per frescare il cervello è una delle armi che mangiava di basket siamo bene, nintendo e, beh, non sei bene Che ha passato? Penso che non stai giocando. O che sei? È solo un fluo? No, come stiamo pronti? Non me lo credo... No! No, 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 no! No, ho fatto un errore. Come hai fatto? Tu stai giocando, no? Sì. Bianca. Quello l'ho fatto? Ho postato un video sbagliato. Al posto di quello di Kymer. No! Ah no, bazookarp! Sì. È il giugno? Ah, abbio! È il giugno fatale. Beh... Però non trovo il video di... Che ho fatto a lui? No. Ho... I'm just trying to have sauce with the apple. Ah, well then... Ok. A little bit of honey and lemon and you get soon better. Si tiene mal di gola. Worms and Rocket League. C'erano giochi belli a 60-70€. Aspetta, Latti, adesso ti parlo, Latti. Mi fai il favore? Continua un secondo tu. Eh... Bezzucarp, eh? Ok. Imposto, non mi se vuoi. Un secondo, Cicos. Un secondo, Cicos. Lo so. Lo so. Lo so. Lo so. Lo so. Vuoi dire che non ho salvato la partita? A me sembra di averla salvata. No? No. No. O no? No. Que a Jaime pensava... No lo so. Non c'è... Non c'è... Un momento los que estais mi partida, vale? No. Perfecto. ma si le acabo de despertar come ha vuelto tan rapido sono uscite quelle persone, ma che coglioni che sono davvero e chi è? i due avevano i punti io volevo provare un cioccolato in negro sai? bene cosa faccio? ah qua sono... ok qualche artina vuole il rullo la storia si ripete è la storia, non come ho detto non sapendo chi ha la spada la spada aspetta e questo è un video che non tiene nada elimina eliminate eliminated eeeh buon ma a farti ciò? eeeh ok che sono buono un po' di plastica cosa ti ha detto? cosa ti ha detto? adesso è tutto io non voglio essere in urbano in urbano ecco ok cosa è tutto ha detto non ha detto l'imbarato perché ha detto l'imbarato l'imbarato qui è qui l'imbarato 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 si il Che succede? Che succede? Che succede? Arlei, poppa! Minia, poppa! Non rispondo Cosa li avete fatto? Perché? Non so Non so Perché da solito Ho trovato un quarto di quello No, no No, è solo il chat di un geniente magari Che è il primo tibon? No, dire il nome del primo Bufu Bufu A ver mia Clau 9 kill È il mio partito È il È il Il 19 No, è il 14 No, non così È diverso Ma il tuo bloc Tu hai visto 14 killi habs È il mio partito Qui è il mio partito? Ma perché con il rosa sei È il mio partito? Potete sapere, per favore? Ma perché si blocca? Non ho capito cosa sta succedendo. Voglio sapere chi ha il loro pezzi e perché. Sì, perché? Cosa? 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 come stai facendo? come stai facendo? si stai facendo un momento solo volevo dire qualcosa di diverso magari ok 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 er hat jemals gesagt wir mögen keine Blaster wir mögen keine die Roller da keine Schlüssel keine Eimer und keine Sniper aber Blaster sind doch ok ein bisschen lang ehrlich gesagt ich spiele mit Drollys wenn ich gerade spiele da 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 reaktion we record ok hello sport sport one two three sport cosa dice no stai flippando del tutto un poco ma perché bega così sweet rush non ho capito bebe soffere cosa vuol dire quella roba lìa che è b f f s ma è della india ok nel senso da qualcun paese orientale perché non scrive inglese correttamente tra un po' parte la registrazione bo capito ma perché tra un po' parte la registrazione ok ah no perché ha il telefono non mi ascolti no mi sento mi sento scusate quindi stop fantom come come bo 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 per mi sento a lo va via quindi, possiamo iniziare con un nuovo spavimento vamo a ver, vamo a ver igo di sport questa modalità era Clownblades questa modalità sempre me costa un monton hacer la reaction perchè è una modalità un pochino asi però vamo a ver lo che non soffresse è un amico mica non ha registrato non è partita incredibile sport mi f*** card non iniziare a registrare quindi potrei registrare non 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 no ora Pedro non 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 watched BAM! Bravo, vai, vai, vai Sport! Go, 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 go! Nooooo! Go, 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 go! Eh, Nintendo, I don't know why. Really? I don't know. And Link win the weaker fan? Tambien. She left the Discord server too. Okay. People are strange, worthy of strangers. No, 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 no. Ah, 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 ah. Puh, 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 pah, pah, pah. E' la nostra sve? C'è ancora la sve? Olé. Ce l'avevamo fatta e... ed ero sulla torre. Una situazione grandiosa. hallo julian hollo julian ai 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 bam mamma malevicen che te mejores hola pedro 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 mamma donna lunu faccio un po' la mi piace più cosi no, con il codice no, con il codice ho scusato ok julian, grazie che hai 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 Sweet Rush non ho problemi con te non ho parlato male per la tua persona quindi puoi tranquillo ma 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 mi piace sport graffelli vabbè capisco perché dici che è una bambina sul serio il piano così sì ma io ho parlato così eh ma no perché se me non avevi bisogno so don't worry of course we're friends we're still friends you didn't do anything wrong you just got upset then we're we know what happened but please talk with us yeah before to do anything but did you tell us that somebody was being mean to you who's that person tell me tell me now sweet tell me and i'll splat him if i can i can i promise though like splat him no please if you feel i'll target i'll target him it's a it's a girl though okay so not him her ma io non mi sembra che sia successo niente ah okay never mind cosa ha scritto and if you if you know that we'll talk a lot of languages we were so when we're not talking at that moment in english just write and we will respond when as soon as we read it we will respond so chicos guys i think we we need we need we need we need we need to continue to who's no because i much i cuenta t qualcuno oh 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 BAM! No, dove? Quale è la sensazione? Ma no, perché non c'è? Prima, prima? No, ma quando? In una partita Stiamo a parlare Avrei pensato ho fatto perdere se è andata Ok, Iugli Sport Sport, strimiamo dopo Adesso cerchiamo il strim Ma dopo siamo qui Un'altra volta No, no, no Non mi esqueci Siamo giocato il Bazzucarp Quindi ho giocato il modo normale Ma scusate ragazzi Gabi, Gabi Mi hai olvidato che era Bazzucarp Sì, mi hai olvidato che stavamo giocando Bazzucarp Io stavo pintando, tio Stavo solo pintando E' partito pintando Mi hai olvidato totalmente di Bazzucarp Sì, in cinque anni ti vorrei dire lo che ti vorrei dire ora ma non posso perché sei troppo joven Sì, è bello Sì, è bello Non ho bello, non ho sbagliato Ehm, ha fatto un errore Cosa hai fatto? Ho fatto una pinta Ah, ha pinta Inoltre di giocare Bazzucarp Ora bene Ma te lo crees? Ma te lo crees? Ma te lo crees? Ioiederò I'm going to get ready A Para el pròximo Un salto suicidal Bella bella è terminato, ho finito il colore ho finito il colore ho finito il colore ok è incredibile è incredibile in serio vamo vamo wow grande capi fantastico di verità un bel match o docks colore music il colore credo 1379 1379 che cosa sta succedendo ma tu sei il mio amico colore cool cool no non sei il mio amico lolili loli lolili lolili lol lili lol Ma dove mi parto caldo? Oh cavolo Ma non devi entrare nel radar ancora Guardate un giro Ogni volta tu entri nel radar Te lo dico sempre Non entra nel radar Il bazooka è qua Fermo Dietro di loro Io ho aperto la strada Nessuno C'è Non c'è nessuno C'è solo l'igo di Loli E speriamo E speriamo a No 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 Gabi Cogno E non si muere Quello è Quello è fermo lì la mappa Non lo capisco Ma che è Una persona che non conosco Non è che devi giocare bene Ma scusa Senti sotto il Loli E cosa No Ci sono un voto di gente Non ci sono Non ci sono Grazie a tutti Grazie a tutti Buon lavoro Buon lavoro E' una faccia Non è una scritta Ratti è una faccina 2 Cosa? Ho aspettato 2 Allo stesso tempo E' uno smile Non lo vedevo Cosa? No io Scusa eh Stavo Immerso nella mia partita Io mi sa che è l'ultima che ho fatto Yeah I think this is my last Chiaro eh Fanno così Con tutti eh Adesso lo metto Lo metto in Vediamo cosa succede se lo metto In automatico Nel block Vediamo cosa succede Laura 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 Noi Noi Laura Laura Noi 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 gnocca lo dice via che indietro chicos è cerrato mi partita io gioia è cerrato mi partito che succede ratti con loro è detto per favore mentre gli farei quindi minchia milo arrivano tutti dai dai vuoi due mesi due mesi più ok come on me too then if there's anybody still chamiro a ver se si se reorganizano ciao gaby lastima che ti aburriste sweet we are waiting for the other people we wanna play no adesso adesso li levo levo fai che quella cosa è proibita sulla la mente come parola proibita quindi non appare basta e tutte le sue varianti chiedi se qualcuno ancora deve entrare per favore in inglese ok se qualcuno ancora vuole come in the room se non magari se non e se ne so che se vola a lui se vola a lui se vola a lui è un luogo perché siamo due Dice già di mettere un time out, ok, ok, veniamo in mea comno io. Cosa? E tu lo dice un uno contro uno, io credo che c'è l'entra nella tua partita. Luisa, se io te lo faccio, ma io... no, no, no. Cosa è un fudge. E l'altra? La reale? Questa è... Fiii, l'uevo... Ha fatto così, sempre ha fatto da un'altra forma. Un'altra, gente, un'altra? Grazie Milo! Ah, ok. Ok, tutto questo vuol mettere in un'altra parte. Dicci a Laura che si connetta più tardi. Quindi dobbiamo fare un video. Laura, se volessere un'altra parte. se volessere un'altra parte. Se volessere un'altra parte. Ok, Ellie, questo è davvero difficile per me. Non, ma io sono pronta. Ok, cosa vuoi? Così anche tu. Così anche, Geo? Così anche. Sì. E anche quello in grande. L'esterno. Questa? Sì. E il copp match. Oh. Ehm. 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 e vamo no me lo creo eh Ratti ci sei ancora Ratti Ratti Rattino no divi il tuo amico Loli di scrivere quella cosa che gli piace tanto dili dili wow Midino Miluzio handicap match ok Edgar Camino so ora le vamos a quitar tambien a esta le vamos a quitar tambien a esta es el vato das war schlimm edgar aber gar nicht so schlecht oder es hätte doch viel schlimmer sein können für mich ratti ratti anzi dico 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 sollen wir noch mal eins gegen eins spielen ratino dico 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 ma emoticone posso proseguire? lori un secondo no 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 una volta solo oh no edga ho pensato che sei passato avete finito? non so se ancora entrerà 12 secondi aspettiamo si ok ok ah tu che perfetto è perfetto possiamo possiamo rimanere tutti i emoticone? no posso giocare anche se non c'è ma perché? perché posso sono 9 ma non volevi essere tutti io o no ah vabbè io continuo facendo uno contro uno con edgar ok sì un po' un po' un po' un po' io 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 mi aiutare a fare la descrizione che alemane no 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 edgar 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 io it's full zu spät tu edgar edgar it's full zu spät no ok le tocca a laura ora oh abbiamo registrato come tutto questo wow perfetto 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 che andiamo a analizzare oggi? oggi oggi sehen wir Igodi Laura Laura e vamonos dal Laura so se una giovane Igodi con una duplex una doppietta una giovane Igodi con una doppia waffel 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 ok una bella parola good sword la modalità mi si chiama lusca se mi fai dire le cose più difficile turf war sì un pochino di lag un pochino per questa reaccia piena di lag no 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 si si Laura molto intraprendente si tuffa avanti senza problemi però tre persone troppe per una persona sola una bella notatina mezzo una bella notatina una bella notatina un blaster oh 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 vai 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 nooo in da tinte hängen kuma kuma ha si gesplettet con su jetpack e il kuma no ehm una partita in questa questa in questi stag è sempre così ci sono momenti dove sembra una squadra chiusa e non sembra muoversi bloccarsi qui sul lato destro della macchina si corretto ma in questo stag viene come si si è un giocato che si si è un giocato come intutiv è un giocato è un giocato è un giocato si è un giocato bene 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 per favore è un giocato però due terzo ma come può essere che ha aspettato due volte da pace la cosa cosa non lo so e uno wow Laura finale finale molto caldo finale caldo per Laura si è un giocato per Laura E così è anche il risultato del match, come si vince. E vince. Si vince. Con un buon punteggio tra le altre cose secondo me. Ah, 7-2. Perfetto. Brava Laura. Complimenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E poi prendiamo la pausa. Dillo. E la ultima partita, chicos, la faccio io. I will do the last match. All right. Ma la giocando, no? Si. A chi mettiamo? Ok, adesso facciamo un po' i stronzi perché com'è l'ultima partita. Have a nice last game. Dillo a Laura che il suo video sta per essere caricato. Ok, Laura, il tuo video è stato proprio per essere legato in un minuto. E poi puoi vedere. È meglio, se vuole scrivere solo Igo di Laura su ebay su cose su... Tu devi solo ins Youtube scrivere. Si. Il nome è Igo di Laura. E poi vediamo che tu puoi spiegare meglio, ma tu hai spiegato molto. Tu mi hai spiegato il video. E poi lo faccio io. E poi metteremo... E poi metteremo... E poi, cosa ha detto Edgar? E poi puoi accettare la amicizia su... Noi amicizia su Discord. Ah, è vero Laura? E poi abbiamo a te una domanda di una domanda di Discord. che si è andata. Così almeno ci dobbiamo avvisare. Milo! Bibi... Milo! Bibi... Ok, ma la lista. Dio, quanto bello avere cioccolata calda guardandoti. Mi hai fatto venire una voglia e cioccolata calda. No. Si. Ma neanche lo no. Milo! Loli! Sì, per favore Una botella e godi Look, I put you in watch in spectator at the end No, Loli Io se a che ti riferi tu vale e ti hai che entender che se è l'ho ha fatto e perché io l'ho fatto con l'ho una volta e passa che se non vogliamo scrivere cose e lo poniamo in un filtro e tu intenta dar la volta al filtro e scrivere e scriverla ai moderatori che tu chiedi o no io io no ti hanno che fare lo suo io lo posto nel filtro tu seguiste scrivendolo perché se tutto il mondo è in piensa non è facile da gestire la chat Acquerdate sempre che hai 8 veces sopra 10 che Jess non juega per seguire il chat perché è demasiata cosa scritta è simbolo questo quindi tu fai solo che ella tiene il suo switch e non juega per seguire il chat e anche la live quindi ecco ricordate sempre fare un errore è una cosa umana fare due volte è una cosa un pochino più fea diabolica quindi quindi se parli ancora un secondo devo far fissare perché mi sto fissando addosso io sì la ultima partita la sto facendo io e con tutto l'arma di tutto di non mi sento realizzata anche ho scattato l'alien però no ui Milo porai cosa stai dicendo doc niente tranquillo sì si parlo quindi madre mia mi stai slagando tutti tutti l'alien sì 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 ragazzi non posso dare l'honor di che questa ultima battaglia sia niente non rischia di amas però bene, lì vengono le nubes sei nube devi essere molto precisa in quest'arma molto precisa nel senso devi essere sicuro lì devi sparare ah quello ho detto quello che come la vediamo noi che il fatto è che ci sono come ti spiego a volte c'è molta gente nella chat e se la gente contamina la chat con certe cose io per dire perché tu anche vuoi giocare o anche io voglio giocare ma a volte c'è più bisogno di stare dietro della chat e questo fu impossibile giocare per piccolezze così e per questo abbiamo fatto questa cosa dei emoticon e basta ma continuiamo Sam? eh no fai fai giocare l'ultima lavoro a loro aspetta ma come? ma perché readers come c'erà il video no Fuma No, 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 è ctrl-sweet, non lo so perché l'aveva giocato prima, adesso giocavano gli ultimi che stavano aspettando e poi chiudiamo, no? Abbiamo lasciato due fuori, a Eli di lì, tranquillamente, che se vuole andare, questa è la mia portetta che lo facciamo, perciò la nitri che sta a guardare Edgarsore, se voli a fare, questo va proprio il secondo momento, non ti ho guardare, non ti ho guardare, ti ho scusso, se voleremo appassare all'inizio Il team senza lo dimentico, abbiamo ancora non chiuso, Lare vogliamo per il tutto chiaro, all'inizio faremo fino all'inizio Ola Keke, siamo pronti a streamerciare Hai visto un video Laura? Tu vissi vedere che il finale non è vero Ratti mi capito prima, sì no? Un minuto Un minuto Un minuto E' Kuma, wow Kuma, Kuma, Kuma Jaime, no? Jaime Entonces Quando vuoi fare il stream? Chi lo chiede? No, io te lo chiedo Così la gente non interessa Non lo so, dobbiamo andare a fare con la commissione E' accaduto Perciano, dal fatto la commissione? E' accaduto E poi dica Torniamo O Si Vi a fare un po' le cose, e poi siza D' quanto ci dobbiamo tirare Speriamo di prendere Mi capito ancora Così ancora, dobbiamo Ma che cosa cazzo Io Non l'abbiamo mai aperto a la nuova, non l'abbiamo mai aperto? Fiore! Dilluvio, no? Cosa sta succedendo? Credo che Barcellona si sta sondendo nel diluvio universal Che passa? quindi se non vogliono molti domani, si pensi che non vogliono molti domani, se vuole le cose come fare. in Splatoon 1 Ah, guarda Mi piace molto la map è stata una delle erste ma comunque sempre molto innovativ con lei mi non è più difficile Edga non ha giocato la 1 Splatoon 1 Non ha giocato mai con la map e non ha giocato Splatoon 1 Non ha Grazie Buongiorno! Sette Minchia Ha le nove Sette 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 In Sette Sette faremo la registrazione in demanda E' bello! E' stasera a Visa Ops. Cosa? Stasera a Visa. Ok! Bene! Viste che faccia che tenia la cica? Si, un poco mala. Entrad en la... Haceros una partida entre vosotros si queréis... Usar la chat para hablar del stream. Organizaros. Que todos seguro que podéis continuar jugando juntos. Si. Muchas gracias. Organize, people. You can still keep on playing together. Use our chat to... To talk between... The viewers, ok? Well, Luke... Sorry about that. That happens sometimes. Yeah. We... But we accept everybody. We... We all have been... Level one. I think. Sure. And level ten. Bye guys. See you later. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.